Negli ultimi giorni non si parla d'altro che di un importante accordo tra il Brasile e la Cina, un accordo commerciale tra due potenze dette emergenti che potrebbe mettere a dura prova la predominanza del dollaro come valuta commerciale a livello mondiale. E in questo video facciamo un approfondimento proprio su questo tema. Perché il dollaro è una valuta così importante a livello globale? Perché adesso i paesi emergenti stanno facendo di tutto per riuscire a bypassare, a scavalcare il dollaro come valuta per scambi commerciali? Stiamo davvero assistendo ad una de-dollarificazione? Bella domanda. Approfondiamo tutto questo e tanto altro in questo video. Iniziamo. Stai pensando di comprare casa? Ma sei un po' intimorito o intimorita da questo aumento dei tassi e di interesse? O magari ti mettono in ansia direttive come quella sull'efficientamento energetico che si sta discutendo in Parlamento Europeo? Bene, abbiamo deciso di organizzare un evento che ti permetterà di capire come affrontare l'investimento immobiliare sia con finalità di messa a reddito sia come acquisto della tua prima casa in questo 2023 con l'obiettivo di comprare un immobile ma farlo nelle migliori condizioni possibili. Questo è un evento totalmente gratuito che si trarà il 12 di aprile alle ore 21. L'evento si chiama Accasati. Come comprare casa nel 2023. L'evento è totalmente gratuito. Puoi iscriverti gratuitamente cliccando il link che trovi qui sotto. Ti aspetto. Ciao. Cina e Brasile hanno recentemente fatto un accordo commerciale bilaterale che li porterà ad utilizzare le loro valute nazionali invece che il dollaro per transazioni commerciali. L'accordo quindi permetterà alla Cina e al Brasile di effettuare transazioni finanziarie direttamente tra Yuan e Reais brasiliani o viceversa senza dover convertire le loro rispettive valute in dollaro americano. Questo accordo ha l'obiettivo di ridurre i costi, stimolerà i rapporti commerciali e faciliterà gli investimenti reciproci tra le due nazioni. Per molti analisti finanziari questo è l'inizio della fine del dollaro come valuta definita World Trade Currency. Cioè una valuta utilizzata a livello mondo per gli scambi commerciali. In questo video voglio fare un approfondimento proprio su questo tema. Quindi l'obiettivo è capire se davvero il dollaro sta perdendo il trono di valuta utilizzata per gli scambi commerciali a favore di altre valute, quelle dei paesi emergenti. E prima di capire che cosa sta succedendo al dollaro oggi penso che sia logico chiedersi ma perché il dollaro è la valuta per gli scambi commerciali più utilizzata per gli scambi commerciali. Prima di capire quindi se la de-dollarizzazione è un fenomeno o meno dobbiamo capire perché c'è stata una dollarizzazione. Cosa vuol dire dollarizzazione in altre parole che sembra un gioco di parole. Bene questa infografica ci permette di capire bene questo fenomeno e come al solito se te la vuoi guardare con più calma puoi scaricare il pdf con tutti i link e tutte le slide gratuitamente alla fine del video. Partiamo quindi dal concetto che il dollaro ha dominato tutti gli scambi commerciali e i flussi di capitali diciamo da decenni in particolare dal dopoguerra potremmo dire. La data precisa è il 1944 con gli accordi chiamati Bretton Woods Agreement. Gli accordi di Bretton Woods sono un insieme di regole economiche internazionali stipulate nel 1944 tra i principali paesi industrializzati del mondo occidentale. Si sono tenuti tra l'1 e il 22 di luglio del 1944 a seconda guerra mondiale ancora in corso. Gli accordi erano su varie tematiche a livello economico finanziario che non approfondiremo tutte. Ci interessa capire un paio di concetti. Innanzitutto vengono istituite delle istituzioni finanziarie come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Ma quello che è più importante ai fini dell'oggetto di questo video è capire che viene definito che tutte le valute nazionali delle 44 nazioni alleate che prendono parte agli accordi, tutte queste valute devono essere convertibili in dollaro. Si crea quindi un sistema dollaro centrico per cui i commerci internazionali avvenivano soprattutto in dollari. Per esempio il prezzo delle materie prime come il petrolio d'ora in poi saranno espressi in dollari. Ma leggendo queste pagine di storia viene da chiedersi ma com'è possibile che in un tavolo di trattative con 44 nazioni si sia decisa che la valuta per i commerci globali mondiali sarebbe stato il dollaro. Perché? Molto semplicemente perché gli Stati Uniti in quel periodo erano una potenza mondiale a livello economico, a livello politico e a livello militare. Un anno dopo sganceranno l'atomica su Hiroshima e Nagasaki che è stato anche un modo per dimostrare al mondo la loro predominanza militare. Quindi dobbiamo renderci conto che quando ci sono queste trattative sia a livello di Bretton Woods ma anche di comunità europea non vige una regola di comunità. Sì dobbiamo trovare un accordo ma come in un condominio ci sono inquilini che magari hanno tre appartamenti nel condominio quindi hanno maggiore peso perché hanno più millesimi all'interno delle votazioni del condominio. Quindi una persona non vale uno perché ha più millesimi rispetto ad un altro che magari ha solo un appartamento. Bene è un esempio un po' forzato ma per farti capire che anche quando si tratta di negoziazioni di questa entità quello che pesa non è solo la storia di una nazione ma è il potere politico economico e militare che questa nazione ha. E gli Stati Uniti anche forti del fatto che la guerra non stava distruggendo gli Stati Uniti ma l'Europa erano una superpotenza emergente. Superpotenza che voleva affermarsi come, arriveremo tra poco, sta cercando di fare la Cina. Se vuoi capire meglio questi concetti il mio invito è di guardare questo documentario meraviglioso sempre di Ray Dalio che ormai ci ha abituato con una qualità dei suoi documentari veramente altissima che ti permetterà di capire come le superpotenze a livello storico, lui è andato indietro fino a metà del Cinquecento a partire dagli olandesi, dagli spagnoli, dai francesi, dall'Inghilterra nel 1800, bene come le superpotenze si sono scambiate il controllo dei commerci mondiali. Gli Stati Uniti hanno ricevuto il testimone dal Regno Unito che era la superpotenza che controllava il commercio mondiale precedente e adesso sono sotto la minaccia cinese. Se vuoi capire questi concetti che approfondiremo velocemente in questo video ti invito calorosamente a guardare questo documentario. Lo trovi gratuitamente su YouTube. Quindi durante gli accordi di Bretton Woods si decide anche che le banche centrali di ogni nazione devono mantenere un cambio stabile con il dollaro. Questo è particolarmente importante, capiremo meglio perché tra poco. In particolare se il cambio saliva o scendeva di un punto percentuale rispetto agli accordi, le altre banche, non quella statunitense, dovevano riallinearlo con operazioni di mercato aperto. Tecnicismi, a noi basta capire che i tassi di cambio tra le varie valute vengono definiti fissi. Quindi in pratica durante gli accordi di Bretton Woods si definisce un gold exchange standard, quindi un sistema monetario nel quale la base monetaria è data da una quantità fissa d'oro. Dov'è quest'oro? A Fort Knox, negli Stati Uniti. Ed è basato su rapporti di cambio fissi tra le valute. Tutte valute agganciate al dollaro. Ci basta capire questo. E ci basta capire che il dollaro era a sua volta agganciato all'oro, che era stoccato all'interno dei cabot delle banche centrali. Tutti gli accordi derivati direttamente o indirettamente da Bretton Woods non prevedevano un corretto controllo della quantità di dollari emessi. Questa è la potenza dell'accordo che è stato imposto dagli americani, che avrebbero poi vinto la seconda guerra mondiale, a tutti gli altri alleati. Quindi gli americani avrebbero potuto emettere moneta in modo incontrollato, ma vedremo tra poco che questo avrà un problema e negli anni 70 infatti questi accordi di Bretton Woods vengono rivisti. Chiaramente gli alleati non erano molto in linea con questa filosofia che è stata imposta dagli americani. Il fatto che gli USA potessero autonomamente controllare l'emissione di dollaro su cui erano poi collegati tutti gli altri tassi di cambio era un vantaggio sleale, tra virgolette, imposto con la forza militare. E questo fatto è stato contestato più volte da Francia e Germania, in quanto faceva sì che gli USA esportassero la loro inflazione, impoverendo così il resto del mondo. E questo è quello che sta succedendo ancora adesso ed è la ragione per cui i mercati emergenti guidati dalla Cina vogliono scollegarsi dal dollaro. Ma ci arriviamo tra poco. Negli anni 60 le economie europee e giapponesi iniziano a diventare delle potenze esportatrici, creando una forte competizione con le esportazioni americane e diventando esportatori, quindi vendendo dall'Italia per dire agli Stati Uniti, come vengono pagati in dollari. Quindi il mondo si riempie di dollari, con il problema che eravamo ancora in una fase in cui il dollaro era legato alla quantità di oro che rappresenta all'interno dei cavò delle banche centrali. Quindi negli anni 60 comincia a essere difficile mantenere il legame tra la valuta in circolazione dollari e l'oro presente nei cavò. In più in quegli anni inizia la guerra in Vietnam, quindi gli Stati Uniti per finanziare la guerra, che è tutta finanziata deficit, iniziano a stampare moneta come non ci fosse un domani, riempendo il mondo di dollari e quindi esportando inflazione, che come abbiamo visto prima gli è stato fortemente contestato dalle altre nazioni che partecipavano agli accordi di Bretton Woods. Se quindi c'è un limite alla quantità di moneta che possiamo stampare perché dobbiamo essere ancora collegati all'oro, perché tenerci questo limite? Quindi Nixon negli anni 70 scollega il dollaro dall'oro e quindi finisce la convertibilità del dollaro in oro. Infatti prima di questo decreto di Nixon tu potevi andare in banca e dire, ascolta banca ti do questi dollari, mi dai l'oro equivalente, perché la valuta era legata alla presenza di oro all'interno delle banche centrali fondamentalmente. Con Nixon il dollaro diventa una valuta fiat, una valuta che non ha un valore sottostante legata all'oro, ma un valore che le viene attribuito a livello politico. Un dollaro vale un dollaro perché lo decide il governo. E questa non è una novità, nel senso che le valute fiat ci sono sempre state. Anche i romani avevano iniziato a ridurre la percentuale d'oro all'interno delle monete per poterne stampare di più e alla fine di oro forse negli ultimi casi, non ricordo bene la storia, c'era solo un rivestimento esterno. Nonostante lo scollegamento del dollaro dall'oro, il dollaro diventa un porto sicuro, un bene rifugio, quantomeno nel breve periodo e al netto della svalutazione che invece c'è nel medio-lungo periodo. Però diciamo viene percepito come un safe haven, un porto sicuro, una valuta rifugio che tende a mantenere o incrementare il suo valore durante periodi di incertezza e instabilità dei mercati. E il fatto che nel breve periodo il dollaro tenda ad aumentare il suo valore durante periodi di instabilità è un dato di fatto perché nell'ultimo periodo è cresciuto di valore, se prendiamo il dollar index, è cresciuto di valore rispetto a cosa? Ovviamente rispetto ad altre valute. In termini assoluti e su medio-lungo periodo l'inflazione c'è e il dollaro è indiscutibile che abbia perso valore, ma diventa una valuta rifugio rispetto ad altre valute. Significa che in periodi di instabilità dei mercati, quando c'è terrore a livello di mercati finanziari o di economia, è meglio avere in mano dei dollari che non delle lire turche per dire. Questa è la definizione di bene rifugio e il dollaro nonostante non sia più collegato all'oro viene percepito come un bene rifugio perché ha una scarsa correlazione con l'andamento dell'azionario nel breve periodo ovviamente, cioè quando gli investitori escono dall'azionario perché hanno paura che il mercato crolli dove mettono questi soldi in liquidità, quindi in dollari e come abbiamo visto in questo video questo non accade ancora con bitcoin, se te lo sei perso link in descrizione, che invece tende ad essere profondamente correlato con l'azionario e quindi lo rende ideale in condizioni di crolli dei mercati finanziari. Una valuta può essere considerata un bene rifugio quando c'è una forte liquidità, tanta gente vuole comprare o vendere questa valuta, c'è un sistema politicamente stabile, c'è crescita economica e stabilità finanziaria. Queste sono caratteristiche che non tutte le nazioni hanno, crescita economica, stabilità finanziaria, potere politico, potere militare e questo fa sì che al mondo ci siano varie nazioni che utilizzano il dollaro americano come valuta e non sono l'America e queste sono il Porto Rico, Ecuador e il Salvador che sappiamo che sta cercando di implementare bitcoin come valuta, lo Zimbabwe, il Guam che non so esattamente dove sia e altri stati che hanno ovviamente delle economie molto contenute e che ambiscono ad avere una valuta che ha quella percezione di solidità che ha il dollaro americano. Quindi con questo breve trattato storico dovremmo aver capito perché il dollaro americano si è imposto come valuta mondiale per gli scambi commerciali e perché a partire dal 1944 il suo ruolo è stato così importante, è stato sì aggiornato negli anni 70 con l'accordo di Nixon che ha portato poi ad un altro accordo tra gli stessi paesi che avevano partecipato a Bretton Woods per eliminare Bretton Woods e si è passati poi dei tassi di cambio variabile, ma questo se vuoi lo approfondisce autonomamente. Quello che penso sia importante capire adesso è bene perché allora adesso dopo quasi 70 anni di dollarificazione del mondo stiamo discutendo di un processo di dedollarificazione. Se prima dicevo che il dollaro è un porto sicuro in questo momento rispetto ad altre valute ha aumentato il suo valore. Bene allora questo è positivo per chi fa investimenti in valuta dollaro ma è profondamente negativo per chi? Per i paesi emergenti. Infatti un dollaro americano molto forte può danneggiare in modo molto importante i paesi emergenti. La domanda è come? Cerchiamo di capirlo. E per paesi emergenti pensiamo la Cina, l'India, il Brasile, la Russia, paesi che vengono anche definiti BRICS. Agli americani piacciono gli acronimi, BRICS sta per mattone. Quindi paesi che sono o fortemente esportatori di materie prime come Brasile e Sudafrica o paesi con un forte orientamento per la manifattura Cina, India. Bene un rafforzamento del dollaro mette in crisi i paesi emergenti perché i paesi emergenti dipendono da investimenti stranieri, da capitali stranieri i quali possono evaporare facilmente quando il dollaro acquista valore. Perché? In due parole perché ovviamente se il dollaro acquista valore per un investitore italiano per dire è più interessante andare a fare investimenti in una nazione come gli Stati Uniti perché oltre ad avere un apprezzamento dell'investimento ho anche un apprezzamento della valuta. Quindi i mercati emergenti quando il dollaro è forte tendono a vedere deflussi di capitali, cioè c'è meno interesse per fare investimenti nei paesi emergenti in altre parole. Allo stesso tempo se il dollaro è forte i tassi di interesse sono verosimilmente più alti e quindi i paesi emergenti che devono emettere molto spesso debito, questo è il tema importante, devono emettere debito, finanziarsi in dollari, fanno più fatica a ripagare il loro debito. Questo è un altro tema fondamentale perché un paese emergente dovrebbe indebitarsi in un'altra valuta che non è la sua, quindi usare ad esempio il dollaro perché il dollaro è una valuta forte in cui il prestatore accetta di prestarti i tuoi soldi. Io non voglio prestarti i soldi nella tua valuta lira turca che perde il 30% del valore in un anno, ok? Io te li presto in dollari e tu mi ridai i dollari. Questa è la definizione di bene e rifugio. Quindi un paese emergente se vuole fare investimenti deve indebitarsi in una valuta forte, il dollaro, e chiaramente in certi contesti quando il dollaro è forte fa più fatica a ripagare i propri debiti. Il peggiore dei casi è chiaramente il default, il fallimento per un paese emergente perché deve restituire con magari rupie indiane un prestito in dollari, il dollaro sarà forzato, la rupia magari ha perso valore, quindi è difficilissimo riuscire a ripagare questo debito. Questa è la ragione per cui i paesi BRICS, quindi Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica stanno lavorando su una loro valuta perché l'obiettivo è quello di ridurre la dipendenza e o la dominanza dal dollaro. Quindi l'accordo tra Cina e Brasile è l'inizio di una collaborazione tra i paesi BRICS con l'obiettivo di cambiare un sistema finanziario dollaro centrico e chi sta guidando questa iniziativa sono la Cina e la Russia. Possiamo dire che India, Brasile e Sudafrica non hanno un ruolo dominante anche perché diciamo che Cina e Russia hanno proprio un conflitto anche politico con gli Stati Uniti, bene questo non è il caso di India, Brasile e Sudafrica che però condividono l'interesse di scollegarsi dal dollaro per una maggiore autonomia e quindi andando a scavare notiamo come l'accordo Brasile Cina è solo uno dei tanti accordi bilaterali con l'obiettivo di de-dollarificare le economie. Russia e India abbandonano il dollaro e l'euro in tutti i loro scambi commerciali data 22 dicembre 2022. La Russia in particolare ha visto esplodere le sue transazioni quotate in one cinese e tutto è partito dopo lo scoppio della guerra Russia-Ucraina. Come dicevo prima l'Arabia Saudita strizza all'occhiolino alla Cina e fa un passo in avanti per unirsi al blocco come dicevo prima oltre ai BRICS anche l'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita è uno dei principali produttori di petrolio al mondo quindi è particolarmente importante il fatto che il petrolio è quotato in dollari ma l'Arabia Saudita condivide questa missione di de-dollarificazione e si avvicina sempre di più alle politiche cinesi e infatti sta valutando di accettare yuan invece che dollari per le vendite di petrolio alla Cina ma la fine del petrodollaro cioè dell'utilizzo del dollaro come valuta di scambio per il petrolio non è un fatto guidato solo dall'Arabia Saudita per la prima volta anche la Francia è coinvolta in una compravendita di energia con la Cina che verrà saldata in yuan invece che dollari. Ecco quindi che cosa sta succedendo al dollaro dopo 70 anni ci sono forti interessi a guida paesi emergenti per riuscire ad utilizzare altre valute per quanto riguarda transazioni come quelle del petrolio o in generale per i commerci e quindi la fine del dollaro per come lo conosciamo questo è quello che ci si chiede su Twitter Elon Musk commenta dicendo è un problema serio la politica americana è stata troppo pesante si riferirà probabilmente al discorso di esportare inflazione facendo sì che molte nazioni vogliano abbandonare il dollaro tutto questo unito ad una spesa eccessiva da parte del governo che ha dovuto più volte aumentare il tetto di indebitamento e adesso gli Stati Uniti hanno un debito pubblico attorno al 130 per cento del prodotto interno lordo e così facendo come dicevamo forzano altre nazioni ad assorbire buona parte della loro inflazione e Jerome Powell Jerome Powell sotto commenta Elon Musk smettila di rovinare la nostra reputazione chiaramente questo è un profilo fake fa molto ridere non è Jerome Powell è not Jerome Powell un profilo che palesemente finge di essere il numero uno della Fed quindi il problema c'è e un principio di dedollarificazione è già in atto e la notizia con cui abbiamo aperto questo video è un ulteriore tassello in un processo che è già avviato da tempo che non terminerà ma che non ci può portare a dire che è la fine del dollaro quantomeno non nel breve periodo infatti come dicevamo prima il tema è in che valuta viene quotato un debito quando un paese vuole mettere debito e per i paesi emergenti abbiamo visto che il dollaro è una valuta che viene spesso utilizzata anche detta hard currency per finanziare il loro debito e i loro investimenti e nel 2000 l'utilizzo del dollaro come valuta per finanziare un debito da parte di investitori esteri era attorno al 77 per cento ad oggi siamo scesi ad occhio al 63 per cento quindi è un processo in atto lento probabilmente inarrestabile ma che non ci può portare a dire che tra due anni il dollaro sparirà è un fenomeno che potenzialmente può confermarsi e manifestarsi nella sua interetta in altri 30 50 anni difficile dire una data precisa ad oggi il dollaro è comunque la principale valuta in termini di riserve mondiali pesando per circa 60 per cento l'euro pesa per circa il 20 per cento quindi c'è ancora molta domanda di dollaro a livello mondo ma è indiscutibile che il dollaro in questo momento comincia a essere vittima di una seria competizione da parte dello yuan cinese e questo ci pone un interrogativo perché nel 2022 le banche centrali a livello mondo hanno fatto incetta di oro che sia legato a questo processo di dedollarificazione bella domanda che mi sono fatto e penso ti stia facendo anche tu e che ho deciso di approfondire in un altro video che se ti interessa vorrei riproporre sul canale quindi se vuoi un approfondimento su questo tema scrivimi nei commenti perché le banche centrali stanno comprando oro e faremo un video di approfondimento se vuoi scaricare tutte le fonti di questo video clicca il link che trovi qui in alto al lato a destra è totalmente gratuito e visto che abbiamo parlato di valuta e di bene rifugio se vuoi capire perché bitcoin non può essere considerata ancora un bene rifugio guarda il video che ti proponiamo qui in basso al lato a destra se questo video ti ha dato valore clicca mi piace iscriviti al canale e ci vediamo in un altro video ciao